L'8 settembre rientravamo alle 20 in Accademia e sentimmo dalle radio dei bar dove noi stavamo che era stato firmato un armistizio. Il colpo fu molto grave perché pur immaginando che ormai si sarebbe arrivati alla fine della guerra, sapere che era arrivata questa data e che era stato firmato un armistizio, per noi fu molto doloroso. Ci affrettammo a rientrare in Accademia e ci comunicarono che eravamo stati nominati e doveva fare la guardia all'hotel Eccensio.